ma chi era perché che cos'è in ordinate niente sì ma cappelletti per te questo è il mio regalo di natale di lady chris sono semplici le di chi sa che apriamo apriamo il mio regalo di natale che è arrivato fino a metri cosa ci sarà qui dentro è bello roba tecnologica di miscia sono curioso ma già gioco scusate l'animalano apriamo in diretto è arrivato vera ora questo guarda sto anche registrato quindi faccio l'unboxing in diretta di questo regalo questo è il regalo di lady chris avete già visto avete già capito no signori e signori rimodernizzarci in un altro modo basta con queste cuffie di merda adesso siamo passate alle gaming headset for ps4 anche per pc spero anche per pc mac e pad e tablet signori e signori le gaming headset for ps4 a vedere dentro questo fatto bacino vede tutti qui no dopo prima voglio vedere cioè io c'ho queste cuffiette da 4 euro 99 la gente si lamentava nei video dicevano ma come scureggiano quelle fredde con le cuffie un po di male qui dentro è vuoto non c'è niente si vede queste cose così se volete le cuffie uguali alle mie ecco come saperle queste sono le caratteristiche se vi interessano poi abbiamo le cuffie ovviamente ora vedremo come mi stanno addosso colore va bene rosso nero e alla poltrona sì qui abbiamo deve essere una specie di microfono ah sì è il microfono qui si aprono e vediamo no che cacchio se lo sapevo prima registravo che king of the kill con queste oggi ho giocato oggi ho fatto schifo sono arrivato alla centocinquantesima posizione no no ho promesso al mio pubblico che faccio una prova al giorno lo speciale se quello può fare se si sembrano sono belle devo provarla a vederle sono spettacolari c'è finalmente un paio di cuffie le volevo già comprare proprio dicevo mamma spendere 78 euro con queste 4 euro 90 benissimo la gente si lamentava un po diceva che sentiva male io sentivo bene alla fine diceva e mi andavano bene però ovviamente se il mio amore è pazza e spende 70 speso da sovere dimmi che non è speso però troppo amore perché un po da pazzi ok però conoscendola non è una pazza che spende soldi adesso a sinistra non lo dici per questo qui si attaccano vedete qui c'è il collegamento mic e qui c'ho attacco certo che è tratto bene queste le metto così scusate ve la devo dire addio a queste cuffie che mi hanno aiutato in questi questi giorni questi giorni mi hanno aiutato 4 euro 99 al dodif fare vendita però e teniamo sì per scorta oppure gli altri computer così che teniamo sempre con 4 euro 99 mi avete aiutato il più possibile però adesso è arrivato il momento di andare in gattabula e di lasciare posto aspettate che collego anche il microfono e di lasciare posto rimanete lì e dovreste sentirmi un po più basso forse adesso mi sentite eccoci qua con le nuove cuffie che ci ha regalato lady chris signori e signori ci sentiamo molto bene devo dire con questo audio dovrebbe essere abbastanza bene domani proveremo tutti i nuovi gameplay con queste cuffie forse anche adesso proveremo subito fifa 17 interlazio con queste cuffie vediamo un po se è fattibile lady chris ti amo ti voglio bene grazie amore mio e grazie di questo regalo signori da questo box è tutto da frank mazzone tutto passo e chiudo ciao